Cari ragazzuoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite, basterà cliccare sul rettangolino in basso a destra e andare a inserire il mio nome, ovvero Croatomis, nel supporto a un creatore. Una volta accettato, ragazzi, il gioco sarà fatto, quindi grazie a tutti coloro che decideranno di supportarmi. Ah, ragazzuoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non me ne pentirete. Link in descrizione. Ah, è sopra. Ehi, ah! Mi ha passato? Brava. Vedi tu il pompa se vuoi? No, trova adesso, ce l'ho, ce l'ho. Ok, perfetto. L'ho trovato in questo preciso momento mentre mi sparava nelle ghiappe. Ok. Mi ha sciso, l'ha fatto malissimo. Solo una cosa è brutta nelle normal. Il fatto che hanno tolto il shield e i materiali quando ammassi le persone. Eh, ma ha pure i materiali? Quando ammazzi qualcuno tu non guadagni più niente. Né maz, né vita, né shield. Niente. Quindi più fighty, peggio è. Oddio, questa è una bella cazzana. Tu pensi che le persone non si siano lamentate? Uh, capirai. Uno morto. Nemmeno un altro. Morto. Eh, beh, che cosa me li chiami a fare? Ho capito, sono l'aprita per questi, portarci loro. Vai, tranquillo. Sì, ma volevi, vai. Uh, vieni qua, ci hanno scelto lei per te. Morto, morto, ultimo. Uno te lo lascio. Sì, sì, uno te lo lascio, uno me lo faccio io. Occhio. Ho fatto male. Molto male. Morto uno. Ok, occhio, perché tanto... Io non ho poco vita. Aspetta per un attimo. 27. Uh, ho preso gli scintini. Dammi solo un secondo. Ho tutto. Quanta gente c'è per dire? Uno è giù. Troppa. Nove blu. Ho fatto malissimo questo. Eh, c'è pure altra gente. Mortacci lui. Quindi non can fare io, ma ha fatto malissimo questo tizio. Fatto. Ottimo, vai. Ho fatto un doppio 29. Io me li pusho. Vai. Ah, gli hanno preso. Non c'è tanto. Mi mettono il cittadino, arrivo. Oh, no, sono qui dietro. No, non c'è qui dietro, cazzo. Allora. Sono morto, sono morto. Ok. A me si dà dietro, tranquilli, io, che fai un'assistica. Ok, non c'è. A me stanno tirando tutto questo qua. No, ma proprio da me da dietro non ho aspettato che spara proprio che ti aiutassi. Ciao, Chichi. Vedo di non farcela. Eh, sei proprio senza niente, sai. Eh, i shield, chi che altro. Se sono dei bot, magari posso saparci. Mi fanno cadere, ti giuro che sbrocco. Ho chiamato la safe pure. Sì, sì. Uh, qua c'è il loot di quelli che ho ucciso. Uh, shieldini. Vado a me, giochi. Ah, vai, poi se riesci a prendere la scheda tante volte. Oh, ce la provo. Vado a fare una cosa al volo. Non mi rompete. Mamma mia, brava. Ciao belli. Guarda che pezzo di merda ho. Ma è mortale? Madre di Dio. Te posso pure resta. C'ho pure. Ma non ho il panico questi. C'ho pure Rift. Te posso resta tranquillamente. Ok, chiusi. Ma non ho il panico di armi questi, daga. Vurtarci loro. Mamma mia, giocheri. Devo scappare. Madonna, prendi tutto quello che puoi prendere. Questa aveva spas, doppio scar. No, ma tranquilli. Ma non ho tutto ragazzi. Ma cazzo loro. Ma sono assurdi, dai. YOLO. Brava, è grandissima. Io non so come so viva. Fortuna che non ho dei bot solo per quella. Via, ho detto a me. Hanno un po' aspettato che mi sono trovato i paletti dietro a degli armi. Quindi, questi do due shieldini. E vado a casciare delle armi. Eh, vuoi per quello, infatti, voglio uccidere qualcuno. Allora, uno è in high ground. Prova a salire. L'ho qua a destra io. Oh, guarda me. Devo tirare una benda. Mi ha fatto male, sto tizio. Questo è bravo. Eh, anche il mio, anche il mio. Io ne faccio un chezzo, io ne faccio. Io voglio uscire. Decisamente sì. Fatti i cazzi tuoi, no? Lo stronzo maledetto. Ti hanno fatto malissimo. Ah, bello, bello. Ok, che hanno riftato. Sentivo qualcuno che ha riftato. Forse che la mia gana rompere è qua. Io il mio un po' di danno gliel'ho fatto, però... Ok, ok, ok. Non ho niente, quindi va tranquilla. Guarda questi, tutta roba ora. Tutti. Io ci sono... Secondo me hanno preso qualche mappa del tesoro. No, per forza. Per forza. Eh, a me quello mi ha ammazzato, sì. È bravo, occhio. Ok. Guarda questo. Ma no, ma scappano. Occhio, geosfera. Ma... E' mortale, oh. Guarda la vita, c'ha questo, scusami. Non lo so, è mortale proprio. Ma porca troia. Amore, non ti preoccupa. Questo, questo, te giuro, mi ha scassato. Ma poi sta sculando tantissimo, guarda. Eh, vaffa. Culo, va. Ma ti rendi conto questo che è bucio de culo? Culo. Quindi c'è un player da solo e questi... Ok, lui è da solo. Ah, io devo essere amica, no? Però, anche lui è essere amico come me. E quell'altro gioca bene se facessi i suoi. Ah, io non gli voglio rompere le scatole. Eh, appunto. Quindi difende da lui. Però, vabbè. Mi parte colpiscini, giusto per... Eh, giusto per dire, non mi rompono. No, non mi fa cascare, vissi. Ahia. niente l'ho fatto incazzare dice ma questa è l'altra che mi cerchina 15 ha detto lo sai che c'è ecco la guarda che qua la testolina di fare cazzata ma lei lei asfaltato per porca miseria e ancora corrono quasi tutto e ma devono spassarsi io so come spassarmi allora questo non mi ha neanche guardato quanto è morto che è morto casi la finalità si è morto 3 4 6 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 11 12 12 20 13 14 mamma mia let's go bella bella ma io ho fatto apposta perché volevo morire ho detto vediamo un po tutti insieme come gioca madonna questi ma quella che mi ha cicchinato non ti giuro è stata andata con una frazione di manco il tempo che sei uscita già che di quella skin non capisco l'itbox perché quella banana lì non si capisce niente